trattoria osteria la troia della tuzia oggi siamo da fernandino il re della pennetta penne alla boscaiola o va con la ricetta d'altronde come tutti sanno in un ristorante per mangiare bene ci dessi sudicio se non è sudicio un è buono 250 grammi di penne rigate lunghe le pasta asciutte gli hanno avanzate dai pranzo di natale del 99 anche perché la cottura ai dente gli è passata di moda ora non usa più diciamo la cottura ai dente gli hanno più scotte ma gli hanno più buone gli hanno più morbide dice oggi che si fa da mangiare ma fa due penne tutte fatte asciutte ai sugo veloce alla boscaiola meno un istone sudiciare ketchup e maionese sai si sciorta che piglia dopo la dissenteria e la troia la suzia o il pentolino il pezzo forte anche il muro magari una bella rintonata una bella rimiancata non ci sterebbe male mi fa quasi gola fa quasi guarda in chimica piena ma che scherzi questa la bosca la boscaiola senza funghi perché funghi non importa mette c'è dicendo di già compresi funghi dice funghi e altre cose insieme comunque comunque no ragazzo gli ha ha fatto la berghiera e gli ha fatto cucina gourmet l'attronde la cucina che mi ragazzi è superiore e non tu può mettere ha vito tu può andare a mangiare la festa dell'unità Quindi ecco, qui è roba Ah, una bella sbrotera, una bella spannata Una bella sburrata Sburrata, eh, ho detto Dell'altro, eh, c'è poi dell'altra panna Perché, diciamo, ti aiuta a mandare giù Il boccone, come mi disse a me una volta Una volta andato a Livorno Ma, Livorno, insomma, non so in dov'ero Pratico, ho preso un panino con la porchetta E questo qui mi fa di baracchino Ma il pomodoro ce lo voglio tagliare a fette dentro Che io, ma, dice, ma il pomodoro nella porchetta Boh, che ci sta bene Ma che scherzi Perché quando dice, e sta gozza Tu gli dà un morso al pomodoro, come disse E tu lo mandi giù meglio Ma lei mi ha pestato O quanto è lei che tu ce l'ha sui bancone di questa porchetta Per essere così secca per mandarla giù Ma che scherzi Insomma, vabbè, non ci distriamo Allora Dai, battilo bene, eh Uno sciopare il sudino Leccalo, leccalo, dagli una leccata Alla mestola E me li metti gliela dentro Una delicatina a tutti e di nessuno Vai Buono, chi gli fa il vento? Ah, 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 sta alzando il fuoco, vedi? In ebollizione si va, diciamo, a rapprendere Si va a rappigliare La va a saltare bene bene Va, rimescagne Vai Oh, va Ah, ne piatti Se cascate di fuori, eh Se cascate di fuori, ne piattino della Pampers Di pannolini Comunque, vabbè Una bella sgrattugiata Di parmigiano Una bella sparmigianà Buono, vada là Dell'altro Di più Un po' rimescagne Ne ne metti ne ancora Osteria trattoria Da Fernandino, ragazzi Il re della pennetta Comunque c'è anche un bel ambiente all'aperto Tu portar fuori a fumare Per dire Vedi, no Ma me di garba Comunque, anche No, a parte l'intonaco Vabbè, poi lascio Comunque, meglio di tanti ristoranti Che c'è davvero, eh Perché Te street chef Lasciategli un like anche a lui su YouTube, vai E poi lasciate un like A la nuova pagina Facebook I Bellini Su Facebook E su Instagram Toscana Ma lei ma mai alla 2.0 Sì, poi Che Deo di Deo